La domanda è questa La Bibbia dà molte risposte a questa domanda, tantissime. Quelle che sicuramente voi conoscete meglio sono quelle dei Vangeli. Possiamo rispondere a questa domanda a partire dal Vangelo della Mantalena, dal Vangelo dei Discepoli di Emmaus, dal Vangelo di Gesù che appare agli Apostoli, oppure a Tommaso o a Pietro sul lago. Penso che probabilmente non avete mai risposto a questa domanda a partire da questo brano che ora vi leggo. Si trova al capitolo primo dell'Apocalisse, e al versetto 9 fino al versetto 18 possiamo dire che Giovanni ci descrive per lui chi è Cristo risorto. Cioè lui risponde alla domanda a cui avete risposto voi. Per me Cristo risorto è... Io, Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella perseveranza in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udì dietro di me una voce potente, come di tromba, che diceva Quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Eges, a Smirne, a Bergamo, a Tiatira, a Sardi, a Filadelfia e alla Odicea. Ecco, Giovanni si presenta e Giovanni dice che a causa della sua fedeltà a Gesù, a causa della testimonianza che lui ha dato a Gesù risorto, si trova prigioniero, si trova esiliato in un'isola chiamata Patmos, esistente ovviamente tutt'ora. E mentre qui, in ogni caso, con la sua comunità riesce a celebrare il giorno del Signore, riesce a celebrare la Domenica. E la Domenica che cos'è, se non il giorno in cui Gesù è risorto? La Domenica, noi celebriamo tutte le Domeniche la risurrezione del Signore e la celebrazione Domenicale è l'incontro con Cristo risorto, perché Gesù appare sempre alla sua Chiesa riunita. E qui una voce gli dice di scrivere ciò che vede e di mandarlo alla Chiesa, le sette chiese, la pienezza della Chiesa, il numero della completezza. Ed ecco che ora ascoltiamo quello che Giovanni vede. Mi voltai per vedere la voce che parlava con me e appena voltato vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I piedi avevano l'aspetto del bronzo, splendente, purificato nel crociuolo. La sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla sua bocca usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Ecco, fratelli e sorelle, questo è Gesù risorto per Giovanni. Prima di esaminare i dettagli di questo brano, vi dico come si conclude la visione. Appena lo vedi, catti ai suoi piedi, come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse Non temere. Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e degli inferi. Versetto 12 Ora, come mi voltai per vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri d'oro e in mezzo ai candelabri c'era uno simile a figlio d'uomo. Primo dato, Cristo risorto si trova in mezzo ai sette candelabri. E come l'Apocalisse dirà esplicitamente, essi sono la Chiesa. Sono le sette Chiese, la finezza della Chiesa. Cristo risorto si trova in mezzo alla sua Chiesa. E state tranquilli, la Chiesa dell'Apocalisse, la Chiesa di Giovanni, la Chiesa degli Apostoli, era peccatrice almeno quanto la nostra. Quindi non è che allora c'era, e oggi no perché siamo cattivi. C'era uno simile a figlio d'uomo. Quindi il Cristo risorto è simile a figlio dell'uomo. E qui non ha un tono di umiltà. Nei Vangeli questo titolo in bocca di Gesù ha anche un tono di umiltà, figlio dell'uomo. Ma qui invece ricorda una profezia di Daniele in cui si dice che il figlio dell'uomo verrà sulle nubi e a lui gli sarà dato il potere. Cioè il figlio dell'uomo è il colui, nell'Antico Testamento, che verrà a regnare, che verrà a governare, che sarà il Messia, che sarà il giudice, il Signore. Con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Con un abito lungo fino ai piedi. È sacerdote. Questo è l'abito del sacerdote. Colui che è sempre vivo a intercedere a nostro favore. Cristo risorto è sempre vivo a intercedere a nostro favore. È sacerdote. Prega il Padre per noi. Il Padre ci ama tanto, ma se questo non bastasse, anche se è già sovrabbondante, per di più, Cristo è sempre alla presenza del Padre a pregare per noi. e ha una fascia d'oro e cinto al petto con una fascia d'oro. È Re. È Re. È colui che regna. È colui che stabilisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. È Re. È colui che possiede il regno dei cieli. È colui che possiede il regno di Dio. È colui che chi decide di far parte del suo regno entra nella gioia, già qui sulla terra. I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida come neve. Capelli candidi, simili a lana candida come neve. È anziano. È eterno. Ha i capelli dell'eternità. Cristo risorto non muore più. Aveva gli occhi fiammeggianti come fuoco. A Cristo risorto non sfugge nulla. Nulla rimane invisibile. Conosce ogni segreto, ogni pensiero, ogni desiderio. Conosce, accetta, ama. Conosce e non condanna. Conosce fino in fondo, per poter amare nel modo giusto. Non c'è nulla di te che non sia conosciuto dal Cristo risorto. I piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiolo. È la stabilità. È la stabilità di Gesù risorto. È la stabilità del suo regno. Lui vince. Lui trionfa. I regni umani, le ideologie umane, per quanto possano sembrare dominanti, sono destinate a finire, a scomparire, a passare. Il regno di Gesù rimane in eterna. Mi viene in mente chi viveva, ad esempio, nel regime comunista, in Russia, dove si distruggevano le chiese, e così via. Probabilmente era convinto che quel tipo di vita non sarebbe mai passato. Tanto era dominante. Eppure, sono passati pochi anni e non c'è più nulla. Il regno di Gesù no, è stabile, eterno. E se a volte sembra che non ci sia più, in realtà è semplicemente in attesa di ricomparire. Ma alla fine trionferà. La voce era simile al fragore di grande acque. Immaginate le cascate, io in testa le cascate delle marmore. Che fragore, che rumore. Immensamente più potente è la voce del Signore Gesù risorto. Tant'è vero che nel mondo milioni e milioni e milioni di persone la sentono. Tanto è potente. è anche vero che nonostante questa immensa potenza noi facciamo difficoltà a sentirla e a volte diciamo che non parla. Ma il problema è la nostra immensa sordità spirituale. Perché la voce del Cristo risorto è più potente della voce di grandi acque. Tant'è vero che nel mondo ogni giorno milioni e forse miliardi di persone dicono ho ascoltato Cristo e la sua voce. nella destra teneva sette stelle e la Chiesa sta nella sua destra sta nelle sue mani. Dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio. La sua parola divide, separa, illumina. La sua parola penetra. La sua parola uccide il male. La sua parola giudica ciò che è giusto e ciò che è sbagliato perché lo divide. e il suo volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza. È il volto di Cristo risorto. Un sole che splende in tutta la sua forza. È pura luce. È pura luce. E lui non c'è alcuna ombra di male. Nessuno attribuisca mai un minimo di male a Cristo risorto perché lui è pura luce. Una luce tanto abbagliante che chi ci fissa lo sguardo vede tenebra perché è troppo abbagliante. Ecco, di fronte a questa visione così immensa, chiaramente, dice Giovanni, appena lo vidi, cadde ai suoi piedi come morto. Noi diremmo io riposo nello spirito forse, cade, non regge, non regge a questa visione. Ma egli posando su di me alla destra mi disse non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Io sono all'inizio della storia, io sono alla fine della storia, io oggi vivo, io sono la vita, la vita non sono altro che io e chi vuole vivere deve partecipare di me perché io sono la fonte della vita e non ce n'è un'altra. Io ero morto ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Confrontate un attimino se la vostra risposta a chi è Cristo risorto assomiglia a quella di Giovanni. Buon breve approfondimento che un pezzettino già l'avete fatto. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie.